quante volte noi ci ritroviamo a dovere lottare con la nostra volontà a dire io questa cosa non la voglio fare alzati e vai ad ascoltare la voce del padre perché ha da dirti qualcosa signore io voglio essere la tua la tua argilla io voglio essere lavorato da te è sul monte che gesù portava i suoi discepoli quando gesù saliva sul monte i suoi discepoli erano con lui impastami modellami affinché io possa fare la tua volontà e possa essere un vaso utile fratelli sul monte c'è salvezza sul monte c'è redenzione sul monte c'è il perdono dei peccati sul monte c'è la grazia di dio sul monte c'è la misericordia di dio sul monte veniamo trasformati gesù scese dal monte le sue vesti erano sfolgoranti mosè scese dal monte il suo volto era raggiante e quando tu e io stiamo alla presenza di dio e stiamo sul monte e stiamo in intimità col padre gli altri lo vedono fratelli chi sta fuori lo vede che io e tu siamo diversi e quello che ci fa diversi è la gloria di dio in noi chi è la gloria di dio è la gloria di dio e la regno di dio è la gloria di dio e cioè da